La Giant Trance non ha certo bisogno di presentazioni, è uno dei modelli più longevi del brand taiwanese. Nel corso di questi anni ha subito costanti aggiornamenti che di fatto l'hanno resa una delle trail bike più efficaci e polivalenti del mercato. La Trance X-Advance 1 che abbiamo in prova è stata sottoposta a un deciso restyling dopo l'ultima versione del 2021. Gli ingegneri del colosso taiwanese si sono concentrati per realizzare una bici che fosse quanto più possibile personalizzabile per offrire ai bikers la possibilità di trovare la configurazione più adatta al proprio stile di guida e al percorso in modo semplice e veloce. Cominciano quindi parlando proprio del telaio, come detto in precedenza la Giant Trance X punta molto sulla personalizzazione. Il flip chip già presente la vecchia versione qui nella parte alta del carro consente di ottenere ben tre diverse configurazioni della bici. Una prima posizione alta con angoli più chiusi e movimento centrale alto che di fatto rende la bici più agile e maneggevole. Poi abbiamo una posizione aperta e più bassa adatta quindi alle alte velocità e alla migliore resa in discesa. Infine abbiamo una posizione intermedia più neutrale. Nelle tre diverse posizioni l'angolo sterzo sarà rispettivamente di 64,4 gradi, 64,8 e 65,1 gradi. La differente configurazione serve poi anche ad adattare la bici alla dimensione della ruota posteriore permettendo quindi al biker di scegliere tra un più canonico formato 29 pollici e uno da 27,5. L'altra grossa novità di questa versione è l'arrivo di un secondo flip chip collocato nella serie sterzo e che permette di variare la lunghezza del reach. La regolazione consente di modificare l'offset dell'attacco manubrio passando da una posizione di meno 5 mm alla posizione neutra di 0 mm fino a quella più lunga di 5 mm. Ancora una volta quindi sono tre le configurazioni possibili. Oltre a quella neutra è possibile selezionare una posizione più raccolta e vicina al manubrio oppure una posizione più estesa a seconda del terreno e delle preferenze di guida delle bikers. Il tutto senza sostituire alcun componente della serie sterzo. Nelle tre differenti posizioni il reach in taglia M, questa che abbiamo in prova, sarà rispettivamente di 456, 460 e 464 mm. Io personalmente amo le bici compatte e mi sono trovato molto bene con la posizione più raccolta, ossia quella da 456 mm. La Giant Trans X viene consegnata con entrambi i flip chip in posizione neutra, nella posizione intermedia, ossia con un angolo di sterzo di 64,8 gradi e un reach bello abbondante di 460 mm. Geometrie quindi moderne che ben si sposano con il piantone seduta bello in piedi di 77,2 gradi. Per dovere di cronaca segnaliamo i foderi del carro abbastanza compatti che misurano circa 439 mm. Il peso rilevato per questo allestimento in taglia M con pedali flat e gomme tubeless è di 14 kg e 410 grammi, un valore una volta tanto adeguato a quello di una trail bike che deve fare della leggerezza la sua arma vincente perché questo significa agilità e facilità di guida. E adesso parliamo di sospensioni, un altro elemento dove si sono concentrate le principali novità di questa trail bike. La corsa dell'ammortizzatore posteriore passa da 135 a 140 mm con un aumento quindi di 5 mm in più rispetto alla vecchia generazione della Trans abbinata a una forcella da 150 mm. Il ridisegnato sistema Maestro 3 è stato sviluppato nell'ottica della versatilità che caratterizza questa bici in modo da offrire stabilità e controllo di guida in tutte le condizioni che si presentano sui trail. In particolare tutto il carro posteriore con foderi asimmetrici è realizzato in un pezzo unico di carbonio senza aggiuntura per il tubo sella o per i foderi orizzontali, una scelta tecnica questa che conferisce alla Trans X una rigidezza e quindi una precisione di guida sempre ottimale. Anche il link superiore è stato realizzato in carbonio Advanced Forged Composite più leggero, robusto e rigido dell'aluminio. E' stata rivista poi tutta la curva di compressione della sospensione per far sì che la bici risulti estremamente progressiva nell'assorbimento degli impatti. Infine è stato fatto anche un gran lavoro di miglioramento sull'anti squat e sull'anti rise volto ad ottenere un posteriore stabile ed efficace sia in attacca e in frenata. In linea quindi con la vocazione tuttofare di questa Trail Bike. Entrando poi nello specifico delle unità ammortizzanti di questa nuova Trans X, all'anteriore troviamo una forcella Fox 36 Performance Elite con 150 mm di escursione e idraulica raffinata Grip 2 che lavora in simbiosi con l'ammortizzatore posteriore un float X Performance Elite con regolazione della compressione alle basse e blocco per la pedalata. Ma prima di addentrarmi nella descrizione più dettagliata della componentistica e voglio sottolineare l'elevata cura costruttiva con la quale è realizzata questa Trail Bike che di fatto ne fa un riferimento per il settore. Ritroviamo per esempio il vano portaoggetti nel tubo obliquo, vi si accede rimuovendo il porta borraccia e all'occorrenza troviamo un altro attacco per eventualmente inserire un ulteriore porta borraccia e poi voglio farvi vedere il nuovo robusto e ampio batticatena ma soprattutto la nuovissima protezione in gomma davvero estesa messa a protezione della parte inferiore del terraio per ripararla come si deve dai sassi sparati dalla ruota anteriore. Parlando di componentistica sicuramente un cenno alla trasmissione SRAM GXT Type con un corona anteriore da 30 il che significa che dà una mano in pedalata anche a chi non è allenato. Questo è un accorgimento che secondo me è davvero interessante perché ultimamente troviamo corone da 34 che oggettivamente sono abbastanza dure da pedalare. Per quanto riguarda l'impianto frenante è affidato agli shimano xt a quattro pistoncini con rotori da 203 mm all'anteriore e 180 al posteriore. Per quanto riguarda le coperture di primo equipaggiamento troviamo al posteriore il Maxxis Dissector con sezione da 2.4 e carcassa EXO accoppiata all'anteriore a un Minion DHF questa volta con sezione da 2.5 e anche qui carcassa EXO assolutamente in linea con le caratteristiche di questa trail bike. E poi non possiamo non fare un cenno ai bellissimi cerchi Giant TRX in carbonio con canale interno da ben 30 mm. Questa Trance è una trail bike ben equilibrata nonostante le geometrie aggressive che strizzano l'occhio all'enduro. Sui trail e anche quelli più scassati lei resta sempre composta grazie a un reparto sospensioni bene amalgamato. La porcella è sempre ben sostenuta nella sua corsa esattamente come il carro che combina un ottimo sostegno sui grossi ostacoli con una sensibilità però sempre adeguata sui piccoli urti. E poi ritroviamo la rigidità del telaio che unita ai cerchi in carbonio offre una precisione di guida davvero da riferimento. non si sarebbe potuto trovare ecco diciamo così un compromesso migliore tra agilità maneggevolezza e precisione di guida davvero sempre notevoli. E poi quando arriva il momento di risalire per un altro giro la Trance è abbastanza efficiente ma dà più importanza alla trazione che non ha un'esperienza di pedalata priva di qualche oscillazione. In questo caso il mio consiglio è quello di selezionare la levetta del ammortizzatore posteriore in posizione ferme. A chi consigliamo dunque questa trail bike? La Trance è allo stesso tempo estrema ed equilibrata. La sospensione fa un lavoro fantastico con i suoi 140 mm di escursione combinando un'aderenza e un sostegno che potrebbero far arrossire passatemi il termine e qualche bici da enduro con escursione più generosa. La corsa più che adeguata delle sospensioni consente poi ai bikers esperti di spingere al massimo supportati quindi da una geometria regolabile, facile e ben bilanciata. E poi c'è il peso di circa 14 kg che la rende estremamente pedalabile, insomma la classica trail bike camaleontica che offre tanto divertimento, buona per arrampicare come per affrontare le discese più accidentate. Cosa non ci ha convinto? Beh è difficile trovare difetti in un modello come questo che è stato affinato nel corso degli anni. Mi ha fatto un po' storcere il naso il movimento centrale di tipo press fit e non filettato perché rende più complesse le operazioni di manutenzione quindi non è in difetto in realtà ma semplicemente una questione di praticità nell'utilizzo del mezzo. Avremmo poi preferito un in diametro del reggisella telescopico di 31,6 mm al posto di quello che troviamo da 30.9 mm per rendere la bici compatibile con la maggior parte del reggisella telescopici. Quanto costa la Giant Trans X-Advance? Una costa 7199 euro, non è proprio regalata anche se in sua difesa c'è da dire che è il modello immediatamente alle spalle dell'allestimento top di gamma, montata quindi con cerchi in carbonio, sospensioni con idraulica raffinata e cambio GX e T-Type. Se volete risparmiare qualcosina vi consigliamo la Trans X-Advance D2 che di euro ne fa 5.899 euro, o addirittura la entry level Trans X-Advance D3 che costa 5.499 euro. Come sempre se vi è piaciuto questo video metteteci un like, lasciate i vostri commenti qui sotto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e come sempre non dimenticate di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e sul nostro sito MTB Calte. Noi ci troviamo sui trail. Ciao!